La poesia e la musica, che sono due linguaggi che da sempre dialogano, sappiamo che anticamente le poesie venivano cantate più che recitate. Un contenitore che non poteva che svolgersi a Napoli, che per antonomasia è la città della poesia e della musica che ha avuto nomi importanti, che sono stati sia musicisti, compositori, sia poeti. Il complesso di San Domenico Maggiore è ancora protagonista nel maggio dei monumenti. Dal 31 maggio al 3 giugno, nella sala del capitolo e nel refettorio, si svolgerà il Festival Cut, pensato per esplorare i punti di contatto tra musica e poesia. L'iniziativa è della Fondazione Alfonso Gatto, che per l'occasione ha preparato un programma in cui ci saranno notevoli spunti di contaminazione tra le due arti, lasciando spazio anche ad ospiti internazionali. Il primo giugno due musiciste newyorkesi, la prima è Sophie Oster, che oltre a essere la figlia di Paul Oster è una brillantissima poetessa e ottima cantautrice. L'altra è una giovane polistrumentista di Seattle, si chiama Brittany Angel, che ci propone un trio di jazz un po' irregolare. Il 2 giugno invece avremo un trio da Rio de Janeiro di Luana Carvaio, che è una importante cantatrice della nuova scuola, la Nouvelle Vague del tropicalismo brasiliano, insieme a Pedro Sà, che è lo storico chitarrista e produttore di Caetano Veloso, e Domenico Lancellotti, che è il batterista e percussionista di Gilberto Gil. Quando ho detto che quest'anno il Maggio dei Monumenti era la festa della cultura più grande del mondo, diciamo, tra le carte che sapevo di poter giocare per sostenere questa affermazione che poteva sembrare un po' enfatica, c'era Caet, questa veramente splendida iniziativa, questo incontro con la poesia e con la musica a livelli internazionali, che siamo felici di ospitare a maggio e nel maggio dei monumenti dedicati a Vico. Per ricordare, diciamo così tanto, per fare un collegamento onnesso, che quando parliamo di poesia e musica, il primo nome che non può, se non venirci in mente, è quello di Omero, e quindi gli Aedi, e quindi questo grande collegamento con i poeti teologici e i poeti eroici di cui parlava Vico agli albori dell'umanità. E il 2 giugno avremo il concerto dedicato alla Costituzione di Danilo Rossi, che comincia poi un altro tempo di celebrazioni e di iniziative, che ci condurrà a settembre, quando celebreremo insieme i 70 anni della Costituzione e i 75 anni delle quattro giornate di Napoli.